Cosa porterà Manuel a prendere una decisione così drastica nel capitolo 239? Scopriamolo insieme! Nel capitolo 239, il seme piantato da Margarita attecchisce profondamente in Manuel, il giovane erede del palazzo. La prospettiva di trasformare la sua relazione con Jimena in un matrimonio di facciata scatena un confronto accalorato. Le emozioni contrastanti tra la coppia sembrano perfetta solo in superficie, e la tensione raggiunge un culmine, che costringerà Manuel a prendere una decisione drastica, segnando uno sviluppo cruciale nella trama. Ma cosa spingerà Manuel a compiere questo passo così radicale? E cosa succederà dopo questa decisione? Continua a seguirci, perché il finale di questo capitolo è ancora più sorprendente. L'entusiasmante anticipazione del capitolo 239 si srotola, come un tappeto di suspense, con il seme gettato da Margarita che si radica profondamente nell'animo di Manuel, il giovane erede del sontuoso palazzo. La prospettiva di trasformare la sua relazione con Jimena in un matrimonio di facciata agisce su di lui come un'ombra enigmatica, provocando un turbine di emozioni contrastanti che sollevano il sipario su una tempesta emotiva imminente. Nonostante possano incanalare l'immagine della coppia perfetta, il divario tra la realtà vissuta da Jimena, ancora legata a una vita separata, e l'illusione che si forma nella mente di Manuel scatena una discussione intensa. In questa sfera di tensione emotiva, i due protagonisti si confrontano con una passione che fiammeggia, e la discordia raggiunge un culmine impressionante, come un fulmine che squarcia il cielo sereno del palazzo. Le parole pronunciate in questo confronto acceso diventano frecce affilate che trafiggono il cuore della trama, costringendo Manuel a intraprendere una decisione drastica che lascia un eco significativa nell'andamento della storia. La scelta di Manuel diventa un bivio cruciale, tracciando un percorso inedito e segnando uno sviluppo fondamentale che lascerà il pubblico con il fiato sospeso. Nonostante Valentin mostri una fervente intenzione di conquistare il cuore di Maria Fernandez, la sua approccio disinvolto e gli incessanti complimenti, lanciati in ogni direzione, specialmente quando rivolti a lei, non fanno altro che distillare una sottile insoddisfazione nel cuore della giovane. Ogni parola di lode e ogni gesto di corteggiamento, invece di suscitare gioia, creano un velo di tensione e fastidio nell'aria, come un'armonia fuori tono in una melodia delicata. Salvador, nel suo coinvolgimento indiretto con Valentin, diventa il tramite di storie sorprendenti. Mentre il giovane racconta alcuni aspetti della vita del suo amico Antonito, figlio di Simona, il fascino di Valentin si intreccia con un passato segnato da dolore. La rivelazione della vedovanza di Antonito suscita meraviglia e stupore nella cuoca, dipingendo una storia di amor tragico che traspare tra le piedi dei giorni trascorsi. Nonostante i tentativi di Donna Cruz di scoprire ogni sfaccettatura delle vicende, la signorina Martina sembra immersa nella sua dimensione. Ignara di ciò che si cela dietro le storie degli altri, l'atmosfera diventa densa di segreti e colpi di scena, con ogni dettaglio che si svela come una tessera preziosa del mosaico intricato delle vite intrecciate nel palazzo. Curro, animato da un desiderio ardente di riconciliazione con Martina, si addentra nei meandri intricati del loro passato condiviso. Ogni passo nel passato comune è un viaggio attraverso un labirinto di ricordi, ombre e sogni sepolti. L'incertezza di come Martina reagirà a questa riapparizione nella sua vita getta un velo di suspense, creando un'atmosfera carica di emozioni taciute e aspettative trattenute. Il ritorno del Marchese, accompagnato dal nipote Curro da Puebla de Tera, aggiunge un nuovo strato di complessità alla trama. Il palazzo, immerso nell'eco del passato e del presente intrecciati, respira l'aria di un cambiamento imminente. Ogni passo del Marchese è un richiamo alla storia, portando con sé le sfumature di un tempo che sembrava sepolto. La malattia di Romulo, manifestandosi come un'ombra sulla sua determinazione a non cedere al riposo, pone Alonso in una posizione delicata. La sua figura imponente nelle cucine, sotto la luce fredda delle lampade, diventa un paladino di saggezza. Mentre l'ultimatum presentato a Romulo sottolinea l'importanza di prendersi cura di se stessi. Ogni parola pronunciata da Alonso risuona come un campanello, richiamando l'attenzione su temi più profondi di autodisciplina e preservazione. In questo contesto, ogni dettaglio prende vita. Il crepitio del fuoco nelle cucine, il profumo avvolgente di spezie e la luce che danza sulle pareti antiche. La scena, dunque, diventa uno spettacolo teatrale di emozioni umane e conflitti interiori, con ogni gesto e sguardo che alimenta il brusio della suspense nella trama. Non perderti il prossimo sviluppo della storia. La fragilità della Marchesa si manifesta in tutta la sua drammaticità dopo un acceso litigio con il figlio. Il palazzo, in silenzio, osserva mentre la donna, avvolta in una veste dai colori vividi, ma ormai sbiaditi, sperimenta una serie di svenimenti, cedendo lentamente alle debolezze del corpo. Ogni colpo della pendola sembra scandire l'incertezza che alleggia nell'aria. La consultazione medica con Abel assume contorni di mistero, con il medico che, con sguardo pensieroso, misura la pressione e ascolta il battito cardiaco irregolare della Marchesa. La luce tenue della stanza si riflette nei suoi occhi preoccupati mentre intraprende il delicato compito di svelare la verità, sulla salute della nobildonna. Il ticchettio del suo orologio da tasca crea una sinfonia di ansia che si fonde con il silenzio carico di suspense. Il consiglio del medico, sussurrato con circospezione, è come una sentenza sospesa nell'aria. La Marchesa, avvolta in un'atmosfera di vulnerabilità, è costretta a confrontarsi con la prospettiva di condurre una vita più tranquilla, una sfida che si dipana davanti a lei. Come un sentiero incerto, la stanza, ornata di mobili antichi e tendaggi pesanti, diventa il palcoscenico di un dramma personale, con ogni dettaglio ad acquistare risonanza nell'intreccio delle sue emozioni. Il futuro della Marchesa, ora più incerto che mai, lascia il pubblico avvinto a un filo di speranza fragile. Ogni piega del suo volto, ora segnato dalle preoccupazioni, diventa un racconto silente delle tensioni che la attendono. La sua trama personale si snoda come un romanzo intricato, e gli spettatori rimangono in attesa, ansiosi di scoprire quale destino riserverà a questa figura tanto affascinante quanto tormentata. Se vuoi scoprire cosa riserva il destino a Manuele Gimena, assicurati di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Lascia un like se sei appassionato delle trame avvincenti, e commenta sotto al video con le tue teorie e aspettative. Le risposte alle tue domande, potrebbero trovarsi proprio nella prossima puntata, e noi, non vediamo l'ora di leggere cosa ne pensi tu.